Questo è il lavoro dello chandelier che vi ho fatto vedere la scorsa settimana. Ve lo metto un attimino più vicino alla camera in modo da poterlo vedere più da vicino. Ho realizzato questa tavoletta mettendo sullo stile shabby e sul gusto un po' più vintage lo stile decorativo dello stencil. Voi sapete che per mia attitudine sono molto propensa al gusto elegante. Il mio negozio è un negozio shabby chic dove riluge molto il bianco, l'oro, il rosa antico, la porcellana, il limogne e anche il floreale perché no. Amo tanto i fiori, i nostri fiori sono dei fiori in pura seta quindi sono dei fiori molto particolari. Però naturalmente il pubblico è tanto, siete in tante e con tanti gusti differenti. E quindi dopo due settimane di ori, argenti e barocco assoluto, ho deciso appunto di muovermi un attimino su uno stile completamente diverso. E quindi di muovermi su uno stile shabby. Vi avvicino la telecamera. Questo è lo stencil chandelier. Ne abbiamo in rimanenza solo quattro perché purtroppo con probabilmente la presenzazione della scorsa settimana ho visto che diverse di voi acquistando il kit della foglia oro hanno acquistato anche lo stencil. Ma non mi importa, ho deciso appunto di cambiare soggetto proprio per farvi vedere anche l'applicativo di questo stencil anche con due nuovi stencil. Questa settimana parliamo di kit promo perché i kit hanno sempre grandissimo successo. Usciamo con delle promozioni dove abbiamo dei piccoli sconti. Benissimo Pia. Anzi approfitto di Pia che mi sta ordinando in live lo chandelier nel dirvi che da questa settimana abbiamo nella nostra azienda una new entry avremo una bellissima e bravissima ragazza che è una delle nostre timbre looker che si occuperà degli ordini. E quindi tutti gli ordini, quelli che mi passerete attraverso Whatsapp verranno raccolti da Raffaella. Lei si occuperà di tutta la parte Whatsapp chi riesce a fare l'ordine online lo può fare tranquillamente come lo ha fatto fino adesso ma tutte le persone che preferiscono ordinare attraverso Whatsapp perché trovano questo canale molto più comodo lo possono fare e Raffaella ci metterà giù all'interno dei messaggi del suo numero e quindi che è il numero aziendale della Misonini e quindi per il momento sarà questo il numero e vi comunicherò eventualmente la variante di numero tutte le persone che vorranno ordinare attraverso Whatsapp lo faranno al numero che Raffaella vi indicherà. Eccolo qua, è efficientissima ragazze, vedrete che se io posso sbagliare perché è presa da mille pensieri con Raffaella non si sbaglia quindi potete rivolgervi a lei per tutto quanto se volete delle informazioni a livello tecnico e le potete fare ancora sulla mia chat però mi raccomando messaggi molto brevi con la richiesta di eventualmente la quantità del materiale la tecnica e delle difficoltà lo potete scrivere sempre sul mio numero invece su quello di Raffaella andate direttamente se avete, se non riuscite a trovare un prodotto se non riuscite ad individuare all'interno del sito avete difficoltà se volete, grazie Milena, anche trovare per dire un'immagine o se avete qualunque problema potete rivolgervi a lei va bene ragazze? allora, anche oggi avremo il kit live famosissimi kit live stanno andando alla grande la settimana scorsa con il kit Voleoro siamo andati alla grande quindi anche questa settimana ho riservato per voi il kit live di cui vi parlerò alla fine della diretta allora, sotto questo lavoro essendo, stiamo parlando di stile shabby ho deciso per questa settimana di utilizzare le nostre chulk le nostre vintage chulk la pronuncia chulk viene fatta in inglese gli americani usano, chiamarle chulk noi le chiamiamo, italianizzando l'espressione, le chiamiamo chulk chulk significa gesso base, gesso è un prodotto leggermente inferiore all'off paint in quanto ha una base di gesso e non di resina la resina è un prodotto molto superiore a livello qualitativo la chulk è un prodotto utilizzatissimo in tutta Italia e l'unica differenza tra i due è che mentre la chulk la parliamo italianizzata visto che siamo italiane mentre la chulk ha bisogno di una finitura e di un fondo io consiglio un fondo perché è sempre un prodotto meno resistente e quindi essendo abituata a lavorare con l'off paint che è un prodotto resistentissimo consiglio sempre che quando usate la chulk di usare l'off paint quindi prima mano con l'off paint quindi potete andare per dire ad acquistare anche un barattolino piccolissimo di l'off paint quindi da 100 ml perché? perché l'importante è dare solo la base di adesione quindi se dovete fare un cassettone grande e volete dipingerlo con le chulk perché sono un attimino più gessose hanno dei colori vintage molto belli adesso vi farò vedere la cartella colori Ennio se me la puoi avvicinare mi fai una cortesia vi faccio vedere le tonalità della vintage che hanno delle colorazioni meravigliose la chulk è un prodotto molto più grezzo è un effetto molto vintage molto shabby molto country molto rustico ed è benissimo da utilizzare nello stile più vintage invece l'off paint è un prodotto molto più stetoso è un prodotto molto più stetoso che ha un fondo di altissima resistenza e contiene già all'interno la finitura infatti mentre la chulk ha un costo di 18,50 euro il 500 ml la chulk ha un prezzo adesso vantaggiosissimo in quanto è in promo ha un costo di 18,50 euro il mezzo litro quindi 18,50 la chulk e 23,50 la love quindi questa è la differenza naturalmente la love paint si può utilizzare su tutti i supporti senza fondo e senza finitura e quindi all'interno del prodotto avete tutto però ragazze dovete dare sempre tre mani se utilizzate colori intensi cioè dai colori medi i tinte neutri tipo i tortori, i sabbia, i seppia il biscotto, i grigi già con due mani abbondanti siete già in copertura se invece utilizzate i bianchi dovete assolutamente andare in tre mani e devono essere anche tre mani belle corpose altrimenti con i chiari non riuscite ad arrivare in copertura perché se partite da una base nera e lesinate e mettete poca quantità di prodotto è normale che anche tre mani potrebbero non essere sufficienti quindi andate in abbondanza quando passate io non lo diluisco quando lo applico a rullo se lo volete diluire leggermente in seconda o in terza mano lo potete fare, quella è la vostra descrizione però con love paint non si usa la finitura perché è già inclusa all'interno tranne se non utilizzate la patina perché la patina deve essere sempre chiusa o con una cera o con una finitura però se volete dipingere in maniera moderna e andare ad applicare un mudo o uno stencil la finitura non la dovete mettere perché è già inclusa la chalk invece va chiusa perché essendo una base un po' più grezza è sempre meglio chiuderla chiudere la chalk è l'ideale con la cera neutra quella al mughetto profumata però se volete rinforzarla la potete chiudere a finitura quindi penso di essere stata abbastanza esaustiva in queste spiegazioni me lo chiedete sempre e quindi ho preferito dedicare dieci minuti per parlare delle differenze quindi l'unica differenza in realtà tra le pitture è che una è più luminosa e setosa non ha bisogno di fondo e finitura ed è love l'altra invece è più grezza ed è più rustica ed è molto shabby per chi ama lo stile shabby quindi è più opaca ed ha dei bellissimi colori però ha bisogno di love come mano di base e la potete mettere in tutti i colori per esempio se volete se avete un mobile nero volete mettere sotto per dire un blu e poi come base love e poi volete andare a dipingere con una chalk vintage azzurro per esempio potete fare love blue poi mettete la chalk vintage azzurro carteggiando fate uscire sotto il blu e avete creato già un bellissimo effetto quindi la differenza tra uno e l'altro dipende prima dal fatto che è più grezza e secondo dal fatto che non ha bisogno di finitura cioè che ha bisogno di finitura naturalmente potete anche non mettere il fondo in realtà anche la chalk prende però se lo utilizzate su una base molto grezza molto porosa e molto rustica anche sul legno greggio non ha bisogno di fondo però se andate a dipingere su mobili laccati vi consiglio di mettere è una questione di dare una protezione molte aziende concorrenti dicono che la chalk va bene anche senza fondo e ci sta però se volete essere sicura al 100% io ve lo consiglio chiuso l'argomento va bene? la love risulta a fine abbastanza opaca e setosa se la volete rendere più lucida basta utilizzare la finitura satinata o addirittura abbiamo anche la lucida quindi va bene ragazze abbiamo parlato abbondantemente di pittura la differenza è questa quando questa sera ho decorato questo tavolinetto con ve lo faccio vedere un attimino più da vicino con la chalk vintage azzurro polvere che è questa qui è la nostra vintage azzurro polvere ed è questa ve la faccio vedere bellissimo anche il packaging questo è il packaging da litro va bene ed è questa utilizzata rappresenta questo disegno meraviglioso e qui è tutto spiegato vi mettiamo sempre all'interno anche il fogliettino con la spiegazione perché differenziamo sempre l'uso della chalk rispetto alla love e questo è il vintage azzurro polvere guardate i colori sono talcati sono meravigliosi forse se ve la faccio vedere da qui si vede benissimo il colore allora sì vi faccio vedere al volo la cartella colori che è questa qua eccola qui eccola qua quindi come vedete tantissimi verdi e tantissimi azzurri in gamma abbiamo dei grigi abbiamo due chiari due nocciola e un rosato anzi di nocciola ne abbiamo ben quattro un sabbia due bordeaux e un altro azzurro chiaro che è il vintage assenzio che dà un attimino su una tonalità verde-azzurra questa è la cartella colori chi acquisterà del materiale della chalk la cartella colori della chalk che ha il costo di 7,50 euro verrà omaggiata sperando che riusciamo a finire la produzione perché sono dipinte tutte a mano le facciamo proprio con i colori e quindi sono un po' più lunghe da realizzare allora scrivetelo mi raccomando sempre nelle note quando volete qualcosa di particolare scrivetelo sempre nelle note in modo che noi possiamo ricordarci e non dimenticarci appunto di di inviarvi e di di mettervi tutto all'interno del pacco allora lo so Mariangela Mariangela ha un gusto molto molto country molto shabby e lei usa solo vintage chalk la love la usa come base e poi mette la vintage e carteggia e escono dei meravigliosi effetti allora stencil basta abbiamo parlato abbastanza di di prodotti parliamo di tecniche allora questa sera parliamo di stencil volute barocche e il nuovo stencil che è disponibile questa sera e e poi abbiamo lo stencil eh postal vediamo franco bollo l'abbiamo chiamato in italiano ehm e vive il made in Italy l'abbiamo chiamato in italiano franco bollo eh perché così è più semplice da individuare anche per noi nel momento in cui ce l'ho ordinato su whatsapp questo è lo stencil volute barocche eh eh no eh volute barocche questo sarà all'interno del kit di cui vi parlerò domani eh eh perché questa sera abbiamo parlato già abbastanza di prodotti e poi abbiamo lo stencil franco bollo che è questo qua che useremo questa sera che sono sicura piacerà tantissimo alla mia Alessandra che me lo ha chiesto diverse volte ed è messo da parte anche per lei quindi questo è questo stencil meraviglioso dove abbiamo appunto questa lettera con anche il franco bollo e questo questo riquadro bellissimo da applicare anche sui sui barattoli va bene ragazze allora sì simonetta ne ho già parlato eh ripubblico la live lo potrai riascoltare con calma alla fine della diretta la la pubblicherò per chi si è collegato un attimino in ritardo allora che cosa ho realizzato vi faccio vedere qui ho realizzato questo stencil e l'ho realizzato in tridimensionale con questa volta eh l'utilizzo di una malta liscia la malta liscia la conoscete in tantissimi eh e abbiamo avuto tantissima difficoltà di avere la malta liscia perché dopo la dopo la lezione sul delabbre la malta liscia è andata a ruba eh questa è la malta liscia nuova che utilizzerò questa sera ne abbiamo disponibilità di una di una quindicina di barattolini perché purtroppo sono prodotti che riceviamo sempre un po' col contagocce ma cercheremo di organizzarci anche per questo a differenza delle altre malte questa è una malta che non sbava e non è a grana grezza come quella che abbiamo utilizzato sulle scatole nelle dirette precedenti e come vedete ho abbassato la telecamera per farvi vedere è bellissima perché ha questo effetto e diciamo luminescente è una malta non opaca ma è leggermente più luminosa quindi è una malta leggermente traslucida è molto bella perché in contrasto con la la malta con l'effetto gessoso che ha questa base la malta liscia è molto è un po' più è un po' più luminosa e quindi crea un effetto di distacco tra l'opacità della base e la luminosità del decoro vi faccio vedere anche come si applica perché è molto bella da da applicare e comincio subito vediamo se riesco ad avvicinarvi il il tavolino per mettermi in primo piano con il con il lavoro allora inizio così allora ho posizionato la mascherina sul sul tavolino e la novità è quella che vediamo se riesco ad entrare in modo che quando vi parlo riesco a guardarvi un attimo scusatevi un secondo eccolo qua praticamente ragazze oltre all'applicativo dello stencil mi potrete dire ma noi lo sappiamo fare già perché noi siamo brave lo so che siete brave siete bravissime infatti vedo dei lavori straordinati oltre a questo vi darò la chicca la chicca della serata quindi aspettate perché adesso vi farò vedere che cosa realizzo con la malta vi faccio vedere oltre il classico la classica applicazione della malta così che so che tutti voi conoscete vado a lavorare questa questa malta in maniera particolare vi farò vedere un'anticatura con con la malta con le nostre per le scienze sono prodotti che avete già acquistato quindi mi piace inserire all'interno delle dirette sempre materiali che voi avete già in casa perché avete acquistato su kit precedenti in modo da non mettervi nelle condizioni di dover necessariamente riacquistare tutti i prodotti da zero quindi come vedete cerco anche di guardare non solo le tecniche e la bellezza del lavoro ma anche le vostre taschine allora fatto in un attimo palettina l'avrete in omaggio all'interno del kit è vero sembra formaggio spalmabile infatti guarda Silvia sei grandissima perché mi vieni sempre avanti allora sembra un formaggino sembra un formaggino non so se si vede guardate perché ci sono i fari che fanno un po' di luminosità ma è lucida è una malta lucida non è una malta opaca è una malta liscia lucida e crea questo effetto bellissimo di contrasto è veramente sembra come veramente che stiate stendendo del formaggino sopra al piano fatto quindi vado a rimuovere la mascherina un attimino che avevo dimenticato un pezzettino sopra stendetela bene con la palettina vado immediatamente a rimuovere la mascherina vediamo se aiuto con il bordino con l'angolino della palettina aiutatevi a sollevarla e la tirate via e guala eccola qua meravigliosa perché perché comunque anche se non è una malta ruvida e rustica ha un effetto comunque tridimensionale perché ha un impasto lucido molto compatto molto corposo questa la chiameremo sul nostro sito malta lucida e ha un effetto molto differente dalla malta liscia perché è riuscite a vedere ragazze la luminosità non so se si riesce a notare però veramente vorrei farvi vedere l'effetto della luminosità adesso che finiamo la diretta prenderò no non sbava assolutamente rimane corposissima all'interno della della mascherina ho parlato di malta questa settimana perché intanto io continuo ragazzi ad applicare la malta anche sull'altra parte così mentre parlo intanto lavoro e voi potete vedere un attimino intanto questa settimana vi avete domandato se potete utilizzare lo stencil con il colore con il colore love paint in realtà io non ve lo consiglio in quanto la copertura del colore è sempre inferiore rispetto alla copertura della della malta quindi io potete realizzarlo in quanto non è che love paint non vi tira fuori comunque il disegno però vi anticipo già che essendo un prodotto molto più liscio potrebbe creare delle leggerissime sbavature e quindi potrebbe anche darvi un effetto più un attimino più imperfetto se volete concepirlo nel gusto shabby e nel gusto country dove tutto è irregolare e non è niente di molto preciso lo potete fare tranquillamente anche con la love paint perché una volta che tirate via la mascherina e vi è venuto fuori anche un attimino più impreciso lo antichizzate lo fate rientrare all'interno dello stile e del gusto del mobile appunto shabby se però volete realizzare contestualizzare con uno stile un po' più definito e un po' più elegante io diciamo dare quello stacco tra il dettaglio il dettaglio particolareggiato e lo stacco con la base invece opaca questa malta crea un effetto tridimensionale meraviglioso allora vi faccio vedere un attimo anche un'altra cosina aspettate che posiziono lo stencil seguitemi eh ragazze seguitemi perché vi dirò delle cose importantissime datemi solo un attimo qui vieni un attimino che non riesco a tenerla ferma perché allora fate conto di una cosa e tienimi questa qui per piacere perché non ho è anche qua ok grazie allora io cosa ho fatto ho tagliato la mascherina questa mascherina che voi avete visto intera io qui l'ho tagliata e mi sono preso il pezzo grande della voluta poi ho staccato il numero 13 e ho staccato la voluta piccola e quindi il mio stencil volute barocche l'ho ridotto in tre pezzi perché perché così facendo ho un lavoro molto molto semplificato in quanto se voglio creare delle composizioni sul sul mio su un su un anta di un mobile e tenendolo per intero qui per esempio eh devo necessariamente avere l'aiuto di una persona che mi tiene ferma la mascherina perché avendo bisogno di solo questo pezzo questa parte eh se non viene tenuta ferma questo si solleva perché comunque già con una mano uno spinge con l'altra tiene ferma un angolino e quindi vi consiglio sempre di tagliarvele di tagliarvele di dividerle perché farete un lavoro molto molto più comodo in questo caso va bene non l'avevo divisa solo per una questione di tempo eh ma vi consiglio di farlo sempre no allora ehm aspetta un attimo fammela tirare su no non lo devo fare club ok qua allora guardate in questo in questo disegno in questo disegno ehm qui c'era in questa scritta la scritta club che a me non piaceva e quindi quando ho stampato il disegno questa scritta non l'ho non ho su questa su questa su questa scritta non ho passato la la malta la 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 malta e quindi ho deciso di eliminarla se volete se quando acquistate un uno stenzio avete delle parti che non vi piacciono le potete tranquillamente ritagliare e completamente eliminare a me non so perché ma questa scritta club non piaceva e quindi quando sono andata a trasferirla non l'ho applicata e non l'ho applicata allora fatto il trasferimento d'immagine vediamo se riesco un attimino a farvi vedere il lavoro più da vicino giro un attimino la telecamera eccolo qua giro la telecamera e ve lo faccio vedere da vicino guardate guardate la precisione guardate la perfezione del 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 lavoro la malta si pulisce con acqua e la mascherina vi consiglio di non strofinarla immediatamente ma di lasciarla a bagno in una in una vaschettina con dell'acqua calda e una volta lasciata a bagno con acqua calda potete e poi la malta si scioglierà da sulla mascherina e riuscirete a rimuoverla con con molta facilità l'oredana vieni un attimino che ho bisogno di aiuto questa è la parte definita mi dite ragazze se si riesce a vedere la luminosità che ha la malta rispetto alla parte grezza sottostante così mi mi venite un attimino avanti ok allora vado avanti con con la spiegazione vi faccio vedere anche questo questo è stato realizzato con un'antica un'anticatura con un'anticatura con una perlescenza oro che è il loro classico perlato adesso brevissimo vi farò vedere come è stato realizzato questa è l'altra l'altro disegno adesso l'ho urtato ma è venuto come vedete perfetto ok fatto questo qui un attimino solo guardate muovo un attimino la telecamera per farvi vedere anche la perlescenza in tutto il suo effetto guardate e adesso vi farò vedere come realizzare questa perlescenza allora qui in questo punto ho realizzato una con sempre la mascherina la tecnica dell'affresco che cos'è la tecnica dell'affresco si realizza in questo modo ho appositamente questo piccolo pezzo di di lavoro per farvi vedere una cosa vediamo ragazzi se riesco a lavorare con una mano farò un po' di salti mortali ma vediamo se ce la faccio un attimino solo allora praticamente che cosa faccio una volta messa la malta vado a lavare lo stencil vado lavare la malta messa all'interno dello stencil che cosa ho fatto guardate guardate cosa viene fuori praticamente il punto in cui il disegno aveva la malta è rimasto in trasparenza non so se riuscite a vederlo bravissima silvia rimane il disegno in negativo ed è un effetto bellissimo straordinario in realtà qui è stato fatto però ho la spugnetta troppo asciutta adesso che me la vengono a lavare vi faccio vedere un attimino meglio come lo potete sfumare una volta che avete la spugnetta leggermente più più bagnata questa malta che vi è venuta fuori la potete la potete tranquillamente rimuovere e ho bisogno di una spugnetta più bagnata e soprattutto più pulita adesso vi faccio vedere come andrò a completarla un attimino passo a farvelo vedere realizzato e il lavoro è questo guardate è un effetto straordinario perché vi crea sullo stesso supporto con la stessa decorazione vi crea degli effetti molto molto particolari quindi fate conto per esempio che su una stessa antina potete realizzare appunto il disegno in positivo e il disegno in negativo creando poi una patinatura e un'antichizzatura e viene un qualcosa di veramente veramente bello fate conto che io ho utilizzato la base di questo tavolino perché voglio appunto farvi vedere un attimino meglio il lavoro eccolo qua mi hanno finalmente portato una straccina un po' più bagnato una volta che ho lo straccetto un attimino più bagnato cosa faccio lo vado vado a sfumare vado a sfumare le parti in eccesso sfumando e lasciando appunto la parte del negativo in vista è molto molto bello l'effetto e con questa tecnica potete realizzare dei lavori molto d'effetto molto belli poi antichizziamo lo stencil che come dobbiamo assolutamente aspettare che asciughi la mascherina che asciughi lavamela un attimo una volta che la mascherina è stata lavata la riandiamo ad applicare sul lavoro già effettuato ed asciutto applichiamo la patina e riusciamo a raggiungere questo effetto che ha un effetto finale bellissimo ve lo faccio vedere un attimino solo riposiziono la telecamera scusate ecco qua scusate ragazze però quando ci sono purtroppo abbiamo due camere per il cambio di immagini dobbiamo farlo per forza così si era bloccato un attimino perché avevo portato il tasto allora vi faccio vedere appunto come vado ad antichizzare con l'oro allora intanto faccio asciugare leggermente questa parte perché se non è faccio asciugare questa parte perché se non è perfettamente asciugata l'antichizzatura con la perlescenza non la potete fare altrimenti impastate quindi aspettate un'asciugatura almeno vi consiglio 3-4 ore in modo da poter poi realizzare un lavoro perfetto intanto vi voglio far vedere un'altra cosa allora non posso sovrapporre gli stencil ancora bagnati e quindi mi posiziono la mascherina su queste parti che sono asciutte utilizzo della perlescenza sulla mascherina stencil come vi dicevo prima tanti tanti di voi hanno acquistato le mascherine tanti tanti di voi hanno acquistato le perlescenze e tanti di voi hanno acquistato i kit stencil dove all'interno ci sono i tamponcini allora per questa ragione vi faccio vedere questa bellissima tecnica allora mascherina prelevate col tamponcino la perlescenza chi l'ha acquistata argento chi oro chi bronzo chi rosa antico andate a tamponare leggermente sulla sulla mascherina e fate aderire il colore alla base si ottengono degli effetti molto particolari perché se li mettete senza la base avete un effetto di luminescenza ed è carino molto bello molto molto se dovete realizzare piccoli disegni per dare per alternare alle parti di malte bianche degli effetti luminosi diciamo che queste queste perlescenze hanno un loro perché sono molto molto vendute molto usate e vi farò vedere anche dopo che con queste perlescenze andrò a bordare tutto il tavolino vi farò vedere come antichizzo con la perlescenza perché voglio darvi sempre lo sapete non sono avida di contenuti cerco di di darvi quanto più possibile scusate mi è scappata la mascherina cercherò cerco di darvi quanto più possibili elementi e contenuti allora qui abbiamo fatto lo stencil con la perlescenza mi serve abbiamo fatto lo stencil con la perlescenza ed è venuto asciugamelo con il phon ed è venuto fuori questa scritta molto carina che sono andata ad inserirla all'interno questa scritta adesso l'ho messa in orizzontale adesso la prendo e la vado a mettere in verticale creando appunto degli effetti incrociati come avete come avete notato la decorazione di questo tavolino ha un effetto come se fosse un ha un effetto come quelle vecchie immagini vintage dove si mettevano le decorazioni in verticale in orizzontale come si usava tanto sulle valigie e di un tempo ha questa ho deciso appunto di di dare a questo a questa decorazione questo aspetto qui vedete poi alla fine ve lo faccio vedere per intero quindi vado ad alternare scritte orizzontali e scritte verticali e vado a riempire un po' tutti gli spazi di vuoto che erano rimasti intorno alle scritte e intorno alle volute ai disegni allora tamponate mi raccomando e un tamponcino stencil quindi e tamponatelo eccolo qua e non fate quello che sto facendo io adesso a tenere la mescherina libera mettete lì sempre un attimino un piccolo puntino di nastro carta tamponate lo voglio ve lo voglio far vedere completo e quindi continuo ad alternare di qua e di là queste scritte le trovate sullo stencil volute barocco quindi è tutto all'interno del kit che vi proporrò domani sera vedete queste scritte le vado un po' ad alternare di qua e di là potete anche sovrapporre qualche scritta sulle parti dove avete utilizzato la tecnica della malta con la tecnica dell'affresco cioè la tecnica del negativo perché perché è bello l'effetto delle sovrapposizioni delle luminescenze è bello è bello bellissimo effetto guardate ancora un attimo ecco qua non so non non ve lo faccio vedere dopo ragazze è finito vediamo di far asciugare anche leggermente questo allora ho alternato un attimino questi elementi vado a prendere anche un pezzettino qui questo giglietto che ho sempre staccato da su dalle mascherine che stiamo vedendo stasera lo vado a mettere nuovamente per corto vediamo dobbiamo trovare anche le giuste posizioni quindi provate mettete togliete guardate vi farò vi pubblicherò una volta finita la live sulla sulla mia pagina vi pubblicherò poi la foto di questo di questo tavolino realizzato completo perché mi rendo conto che è difficile a volte vedere le live e poi il lavoro completo infatti prende il telefono in mano perché da lontano si riesce a vedere meno vediamo dove sono sono fuori camera scusate sto andando a fare l'ultimo pezzo sempre con con la mascherina e con l'effetto a fresco quindi o ve la rispiego velocemente ho messo la malta adesso la vado a rimuovere con lo straccetto bagnato strofino un pochettino potete anche tamponare allora ragazze vi faccio vedere una cosa in questo caso il negativo non è venuto fuori per niente perché vediamo se indovinate intanto che indovinate io ve lo rifaccio lo riposiziono nuovamente e lo ripasso con l'angolino tiro sempre via ho bisogno di una spugnetta leggermente più morbida questa è molto rigida un panno in microfibra sì ho tirato via la mascherina vediamo un attimo se avete risposto bene perché doveva asciugare un attimo praticamente quando volete realizzare lo stencil con l'affresco lì sotto non mi sta prendendo quando volete realizzare lo stencil effetto affresco quindi negativo dovete assolutamente lasciare la la malta che asciughi un attimino che tiri un attimino ho cancellato troppo presto avete detto bene quindi vedete come siete sempre molto brave e molto attente o avevo cancellato troppo presto quindi lo lascio un attimino asciugare in realtà è come se quella parte diciamo più invasiva del prodotto va ad attaccarsi sulla superficie creando quello strato di adesione sul contorno e quindi quando io la vado a rimuovere effettivamente la parte che era stata coperta dalla malta viene fuori traslucida in trasparenza creando il negativo aspettiamo un attimo vediamo se viene fuori nel frattempo voglio farvi vedere dopo aver realizzato con con la mascherina la perlescenza con il tamponcino che cosa faccio vado a mettere sempre all'interno del barattolo un po' di colore del tappo vi consiglio di non prendere la perlescenza direttamente dal contenitore ma di stemperarla sempre un attimino su un piattino perché non dovete metterne in maniera veramente troppo eccessiva quindi cosa voglio fare voglio andare a antichizzare il bordo di questo tavolino con la perlescenza quindi con il tamponcino stesso la prendo e la stendo che cosa faccio in questo modo vado a dare alla bordatura un punto di luce la faccio con la spugnetta che mi dà un effetto molto molto più facilitato rispetto a quello che dovrei realizzare invece con il pennello perché magari ci sono delle persone che non avendo tantissima praticità con il pennello con l'utilizzo della spugnetta fanno molto molto più in fretta vi antichizzo anche un attimino l'angolino avevo dipinto le gambette con il blu tolosa e sul blu naturalmente si vede molto molto bene guardate quindi che cosa faccio con la spugnetta vado ad antichizzare tutte tutte le parti tutte le bordature e tutte le parti del la perlescenza crea un'antichizzatura che non è un effetto in copertura ma è un effetto solo crea solo della luminescenza ve la faccio vedere un attimo ditemi ragazzi se si vede perché dalla camera non riesco a capire se l'effetto di luminescenza riuscite a notarla a vederla vi assicuro che dal vivo è straordinaria che cos'è la differenza qual è la differenza tra il pigmento di foglia oro che vi ho fatto vedere la scorsa settimana e la luminescenza la differenza è che la luminescenza è in realtà una finitura trasparente con all'interno degli effetti luminosi quindi la luminescenza non è come il pigmento che riesce a raggiungere una copertura anche che anche se in realtà se noi riusciamo a dare due mani tre pian piano pian piano riusciamo anche ad andare in copertura ma l'effetto del colore di base in trasparenza lo noterete sempre quindi la differenza tra il pigmento e la perlescenza è questa allora si vede ragazze sono contenta che riusciate a vederlo quindi vado a completare appunto tutto il tavolo lo vado a bordare completamente e lo vado a finire completamente con con la perlescenza bellissime bellissimo ragazze l'utilizzo del tamponcino e ce lo abbiamo questo tamponcino inserito da solo come pezzo unico allora lo inseriamo come pezzo unico solo in maniera tale che se qualcuno di voi ha già acquistato la perlescenza e vuole magari realizzare un'anticatura sulle bordature lo può fare tranquillamente con questo evitate di utilizzare il pennello con le perlescenze perché il pennello non lo distribuisce in maniera uniforme e se andate a realizzare delle righe delle rigature l'effetto non è elegante non è bello quindi preferisco sempre vi consiglierò sempre di utilizzare appunto la perlescenza per quanto riguarda con l'utilizzo sempre del tamponcino stencil va bene abbiamo questo tamponcione bello grosso grosso e lo potete appunto usare in sostituzione del pennello vediamo se riesco a rimettergli in camera il punto dove devo lavorare si può dare dopo la cera la perlescenza no assolutamente no allora mi diceva Ennio che avete domandato se la perlescenza può essere data dopo la cera e vi dico no assolutamente no perché la cera è un distaccante fate conto ragazze che sopra la cera non si può dare nulla nulla niente non si può dare il transfer non si può dare lo stencil non si può dare una finitura non si possono dare le patine perché la cera è un elemento è un prodotto di finitura è un finale quindi quando avete messo la cera e decidete di di completare il lavoro e lo volete diciamo ridecorare dovete assolutamente provvedere con a rimuovere la cera con un decerante che esiste in commercio stiamo vedendo di inserirlo anche noi all'interno del nostro sito perché ci troviamo vicino a tante richieste da parte di persone che magari hanno completato hanno decorato i loro mobili tempo addietro quando ancora non 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 mi conoscevano che magari innamorate di queste tecniche decorative vanno appunto a decidono di rimettere su una decorazione e quindi avendo applicato la cera non lo possono fare più quindi mi raccomando mai utilizzare nessun tipo di prodotto e nessun tipo di decorazione sulla cera l'unica cosa che potete fare è applicare un mud però prima di applicare il mud con la colla extra forte che è quella che abbiamo nel sito dovete comunque leggermente carteggiare in modo da cercare comunque di eliminare le parti cerose che sono sotto quindi preferisco anzi consigliarvi un liquido decerante che andate a fare molto prima che sto facendo intanto intanto che vi parlo sto intingendo il tamponcino all'interno del 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 tappino dove avevo posizionato la dove avevo posizionato il metallico ed incrociando in maniera lo puoi sollevare il telefono e me lo metti così vediamo se riesco ragazze a farvelo vedere sì benissimo così vai un attimino perfetto sollevalo ancora ok allora così ditemi se riuscite a vederlo meglio vai più indietro poco poco ok allora ditemi se così riuscite a vederlo sto andando ad antichizzare con il tamponcino utilizzando appunto la perlescenza in questo caso ho utilizzato la perlescenza questa oro classico ma lo potete fare con anche con con l'argento lo potete fare con con l'oro con il con il rosa cipriato oppure con il bronzo con il bronzo con il bronzato quindi in questo caso sto completando tutte praticamente tutte le parti scoperte del del mio lavoro le sto andando a completare e a decorare così anche qui anche qui dove ho fatto quell'effetto a fresco sono andata appunto ad antichizzare la parte con la sovrapposizione dove si e dove no di questa perlescenza non so se avete notato un particolare nell'applicazione della perlescenza sto andando sia in maniera orizzontale che in maniera verticale perché perché in realtà aspetta che ti centro un attimo il il disegno in realtà mettiti da questa parte in realtà il il tavolino ha dei decori che sono sia orizzontali che verticali quindi quindi aspettate due secondi vediamo se riesco a girarvi la camera perché ragazze ve lo voglio far vedere vi voglio far notare una cosa allora guardate il 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 decoro del tavolo è stato fatto sia in orizzontale che in verticale e quindi incrociando la spugnatura faccio con la perlescenza un effetto texture non posso andare sopra a questo disegno perché è perché ancora è bagnato qui posso andare perché è già asciutto vado sia in verticale che in orizzontale e creo un effetto tessitura che è molto molto bello eccolo qua vedete sitina questa è la stessa perlescenza che ho utilizzato no la scorsa settimana abbiamo usato il pigmento il pigmento di foglia d'oro e il pigmento di foglia d'argento queste sono le perlescenze che abbiamo venduto nel kit nel kit della del sogno e nel kit natura dove nel kit dove abbiamo realizzato appunto il mold qui sopra a questo stencil cosa ho fatto vado a tamponare dove si dove no vado a tamponare senza essere troppo senza essere troppo precisa così in maniera un po' diciamo disordinata e lascio delle parti in trasparenza più bianche e delle parti invece in trasparenza un po' più dorate non so se si riesce a vedere da sulla camera qui non posso andare a realizzare l'effetto della perlescenza perché il lavoro è ancora bagnato e neanche qui quindi in realtà farò in questo modo un pennellino più piccolino anzi il tamponcino quello piccolino posso andare ad antichizzare all'interno delle scritte guardate senza urtarle perché sono ancora bagnate naturalmente voi fatelo sempre quando avete lo stencil perfettamente asciutto però antichizzando all'interno delle scritte conferisco all'immagine un effetto molto 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 bello in realtà ragazze vi devo dire anche una cosa vedete che è uscito il negativo l'ho rifatto è venuto fuori perché ho fatto asciugare un attimino meglio la la malta anche qua guardate ve lo faccio in diretta così lo potete vedere guardate lascio le bordature e il negativo è venuto fuori ed è molto 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 bello allora con la malta grezza potete anche realizzare l'effetto della perlescenza perché basta semplicemente appunto picchettare e andare appunto a dare in alcuni punti dove si dove no dei piccoli rilievi se non volete fare questo lavoro in maniera con queste luminosità perché vi piace di più lo stile quello più meno scicchettoso domani sera vi farò vedere un'altra tecnica sempre con lo stencil però un attimino meno lucida e meno perlata non sia si può assolutamente usare sulla love paint sì ho utilizzato la chalk perché volevo farvi vedere il contrasto tra una base molto grezza e una base molto luminosa e molto lucida appunto della malta lucida eccolo qua guardate guardate come grezza la base e guardate invece la malta come ha un effetto lucido allora ragazze che dire Egno mi dà l'orario siamo alle 19 43 è finita anche per oggi questa meravigliosa diretta ho fatto non vi nascondo di aver fatto un po' di fatica nell'appunto inquadrarvi i dettagli perché mi rendo conto che vederlo da vicino è molto meglio quando le inquadrature sono da lontano si fa molto più fatica ma diciamo che anche quello è il bello della diretta il fatto di doverci appunto arrangiare un attimino nel movimento delle camere abbiate abbiate pazienza allora ragazze per proteggere il lavoro non deve essere protetto in questo caso perché mettendola per le scienze noi abbiamo dato già una finitura e la malta non ha bisogno di finitura se utilizziamo poi la chalc come base e c'è qualche punticino che è rimasto senza per le scienze lo potete chiudere con la cera in modo da comunque avere una chiusura totale del lavoro ma in sé la per le scienze è già una finitura allora ragazze abbiamo concluso grazie per essere state con me fino alla fine il giallo dietro di me non è un giallo ragazze ma è il mio color melone eccolo qua il color melone della love paint è un bellissimo giallo ed è in gamma nella cartella della love e poi abbiamo la lagosta che è l'arancio così ho risposto anche alle vostre domande allora ragazze che dirvi vi saluto vi aspetto domani per un'altra meravigliosa diretta mi raccomando ragazze condividete è importantissimo per me che voi mi aiutate in questo senso è importante che voi siate mi facciate appunto questo questo regalo grazie a voi di esserci state vi aspetto domani con tanti nuovissimi contenuti farò subito sulla mia pagina la foto del kit ve la manderò anche con whatsapp sulla chat in modo che potete già visionare il kit e inserirò anche il prezzo così potete già rendervi conto e lo troverete domani già domani all'interno della sezione live con appunto la descrizione del kit ve lo dico velocemente include allora una delle due mascherine stencil che abbiamo utilizzato stasera quindi o la mascherina stencil volute barocche o la mascherina franco bollo quindi una delle due include una per l'escenza una malta liscia la malta liscia che è questa lucida include un tamponcino per stencil che è quello che ho utilizzato grosso questa sera e un barattolo di chalk da 250 ml tutti questi materiali sono in vendita prezzo kit 35,50 euro e in omaggio riceverete questa bellissima spatolina dove si è incollato lo stencil questa spatolina in metallo allora ragazze quindi vi ho anticipato anche il kit adesso